16 cambi di direzione per due salti, una sola avversaria da battere e a battere tutte neanche a dirlo Michela Schifrin questo lo slalom parallelo femminile di St. Moritz disputato sotto una fitta nevicata Michela Schifrin ormai non ha più bisogno di dire niente, è a 48 vittorie, tra poco raggiungerà il grande Alberto Tomba fermo a 50 vittorie nel massimo circuito, completano il podio Petra Vlova e Wendy Olner le nostre azzurre hanno in parte deluso, fuori ai sedicesimi Chiara Costazza e Federica Brignone caduta rovinosamente ieri nel corso della gara di Super G agli ottavi viene invece eliminata proprio da Wendy Olner che ha poi chiuso la gara in terza posizione anche Irene Cortoni, la meglio piazzata tra le nostre azzurre erano 32 le atlete a prendere il via di questa gara dopo le qualificazioni disputate questa mattina e il grande numero di partecipanti ha reso in parte poco mediatico il format che è risultato un po' lento agli occhi dei telespettatori di sicuro c'è ancora da fare qualche modifica ma questa gara si candida ad occupare una posizione di rincalzo all'interno sia della Coppa del Mondo di Scialpino che anche dei grandi eventi mondiali e olimpiadi prossimo appuntamento con la Coppa del Mondo Femminile dalla Sasslong in Val Gardena una novità assoluta per le donne, allora ne vedremo delle belle